Amici, questa pianta si chiama Artemisia annua. È la pianta più straordinaria al mondo perché una dottoressa che si chiama Yu Yu Tu, cinese, nel 1960-70, è riuscita a dimostrare che con quella pianta era possibile sconfiggere la malaria. Stiamo parlando della malattia che produce probabilmente più morti al mondo, specialmente nei bambini fino a 5 anni. Questa straordinaria scoperta che sostanzialmente ha salvato milioni e milioni di persone in tutto il mondo è stata poi premiata nel 2015 con il Nobel, giustamente per la dottoressa Yu Yu Tu. Il Nobel è meritatissimo. Il motivo per cui hanno aspettato 40 anni per darglielo è un'altra storia e non è neanche tanto bella. Ma oggi non ho voglia di parlare di brutte storie, se volete andatevela a cercare. Quello che voglio dire è che gran parte delle sostanze che noi utilizziamo come farmaci provengono quasi sempre dalla natura. Le copiamo dalla natura e quindi rispettiamola. E buona salute a tutti.